Dove voi siete costretti a venire a chiedere, a esercitare il vostro diritto, peraltro già garantito da un'azienda e da una cooperativa che vi ha messo nelle condizioni di poter lavorare, è paradossale che questo accada in anni in cui noi, qua, in questo municipio, presso la sede dei servizi sociali, presso tutti i servizi che abbiamo aperte, riceviamo decine di persone al giorno che vengono a chiedere casa e lavoro, cioè i diritti fondamentali. Un anno e mezzo fa noi ci eravamo fatti protagonisti di un'azione di mediazione nel tentativo di ricomporre, anche se la competenza non ci appartiene, una situazione che anche allora appareva come paradossale e pensavamo che il nostro ruolo di mediazione potesse servire a risolvere, noi speravamo definitivamente, quella situazione. Dopo trattative estenuanti, anche in termini di tempo, non solo in termini di raggiungimento di risultati, eravamo riusciti quantomeno a sbloccare la situazione, sperando che poi non si replicassero quei fatti che invece poi si sono ripetuti. Oggi io, a nome dell'amministrazione, non ho più l'intenzione di trattare con queste persone. Applausi!